È dal 2014 che il Comune di Talla svolge il proprio ruolo nell'accoglienza dei richiedenti asilo. Il problema è che in questo specifico momento si stanno raggiungendo dei numeri, in particolare poi con un'alta concentrazione in una frazione montana che è la frazione di Faltona, veramente eccessivi. Al momento ci sono 38 ospiti nel nostro territorio, sono veramente tanti, noi siamo un comune di poco più di 900 abitanti. La denuncia è di Eleonora Ducci, Sindaco di Talla, un comune dell'Alto Casentino. Secondo la Ducci, 38 richiedenti asilo sono un numero troppo alto per parlare di accoglienza diffusa. Io sono Presidente di una Unione dei Comuni che è capofila di un progetto SPRAR a livello provinciale. Proprio questa mattina abbiamo deciso di partecipare ad un bando per un progetto FAMI per la fuoriuscita delle persone dai progetti SAI, quindi sicuramente il nostro impegno e la nostra posizione politica rispetto al tema dell'accoglienza è ben preciso, ma le cose devono essere fatte per bene, devono essere fatte per bene soprattutto e in primo luogo dallo Stato e dal Governo, da chi lo rappresenta sul territorio. Quindi davvero è il momento di gestire questa cosa in maniera diversa. Non si può pensare che Talla, così come altri comuni altrettanto piccoli, facciano una parte così gravosa nel tema dell'accoglienza. Sono poche le persone che riusciamo ad incontrare una volta arrivati nella frazione di Faltona. A quest'ora la maggior parte dei residenti è al lavoro, ma tra coloro che riusciamo ad incontrare non c'è chi parla di problemi di convivenza. Veramente salutano, sono abbastanza gentili, vengono ai barri, si servono anche ai barri, giocano a ping pong e con altri bambini vide del posto. È che non parlano naturalmente italiano, di conseguenza è un po' difficile integrarsi a quella maniera. Certo, il numero di richiedenti asilo ospitati in un fazzoletto di terra così piccolo, afferma una residente, è indubbiamente importante. Il livello di integrazione probabilmente gli farebbe più comodo stare in cittadine, servite da più servizi pubblici, però dopo, per quello che mi riguarda, a me noia non me la danno, insomma, nel senso loro fanno il suo, si comportano bene. Quando c'era la casa famiglia, c'erano ragazzi stranieri, gli fu fatto fare un corso di italiano durante l'estate per poter fare in modo poi che a settembre i ragazzi potessero accedere anche alle scuole. Lei dice che così non c'è integrazione. Così loro non parlano perché sono sempre soli, costantemente, non c'è mai nessuno qua su da loro e se nessuno gli insegna l'italiano non è che dalla sera alla mattina questi parlano italiano e possono imparare a conversare con tutti, capito?